Mascherine e costumi di carnevale, gadget, articoli elettrici a bassa tensione potenzialmente pericolosi ma soprattutto privi della certificazione di conformità europea. Un lavoro capillare, quello dei NAS di Pescara, in oltre 20 attività commerciali spezionate su tutto il territorio regionale e che ha portato al sequestro con relativa distruzione di 120.000 articoli per un valore che si avvicina alla milione di euro. Al di là di lievi sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro la particolarità dell'operazione sta proprio nella disposizione di confisca e distruzione visto che in passato, nell'attesa della notifica della Camera di Commercio il provvedimento di sequestro non impediva all'esercente di rimettere in circolo i prodotti. Ci siamo occupati anche delle distruzioni attraverso il conferimento in siti autorizzati e abbiamo realmente tolto dal mercato e distrutto tutti questi articoli che potevano essere pericolosi per la salute. Diciamo che il marchio CE è quello che fa sintesi in qualche modo ma ecco, anche qualche suggerimento e consiglio ai genitori che comprano questi articoli per i loro figli? Acquistare prodotti che non sono tutelati da un marchio è una garanzia di non sicurezza del marchio. Pensate a quanto possono essere pericolosi dei costumi piuttosto che delle maschere che avendo delle pagliette o dei brillantini si possano staccare e essere ingeriti, inalati oppure terminati negli occhi o all'utilizzo di coloranti che a contatto con la pelle possono provocare delle fastidiose dermatiti e non ultimo l'utilizzo di tessuti o di laccetti che non si stacchino all'occorrenza e possono provocare degli strangolamenti ma l'occhio del genitore nell'acquisto di costumi e maschere di carnevale deve cadere sulle etichette sul marchio CE. Sono assimilati a giocattoli, pertanto hanno garanzie di sicurezza come ad esempio l'essere articoli ignifughi e quindi la possibilità di essere indossati dai nostri bambini con assoluta garanzia e con assoluta sicurezza.